Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Andrea Biagioni. In A1 code a tratti tra Firenze in Prunete e in Cisareggiello in direzione Roma a causa del traffico intenso. Sempre in A1 uno sguardo al maltempo sta infatti nevicando tra Rioveggio e Aglio. Nevischio invece tra Aglio e Canenzano Sesto Fiorentino e tra Firenze Sud e Fabro. Si segnala inoltre che nelle prossime ore è prevista neve anche in A11 su tutta la tratta autostradale. Sempre in maltempo sta infatti piovendo in Fipilì tra Firenze e Gello mentre in A12 la pioggia sta investendo tutta la tratta autostradale. Sulla statale Trebis Tiberina invece a seguito del sequestro preventivo del viadotto Puleto è chiuso in entrambe le direzioni il tratto tra Canili e Val Savignone. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!